Maestro, tanti applausi a concludere una bellissima serata, possiamo dire. È stata una serata bellissima, proprio al fine, proprio bello per una settimana di musica eccezionale. Tantissima gente che ha assistito questa sera, tantissima gente per tutta la settimana. Sì, abbiamo portato più di 200 amici di South Bank Sinfonia dall'Inghilterra, poi c'è gente locale che viene anche, anche gente da Anghiari, di tanti diversi culturi, quindi una miscela bellissima di gente. Tanta qualità nella musica, anche per i non appassionati, possiamo dire, bello da seguire. C'è qualcosa veramente per tutto. Solo oggi, per esempio, abbiamo avuto il coro giro giro e canto di Anghiari, di ragazzi piccolini, che cantavano con gli ottoni di South Bank Sinfonia. Poi stasera abbiamo avuto Rossini proprio da Italia, musica di Mozart, con un violista molto conosciuto nel mondo, con un violinista di South Bank. E poi per finire la Sesta Sinfonia di Beethoven, il pastorale, che è al temporale, visto che abbiamo avuto anche il temporale oggi, è stata musica molto adatta a oggi. Un bellissimo rapporto tra la South Bank e Anghiari che continua e che proseguirà ancora. Sì, speriamo di tornare per tanti anni, ma il fatto è che l'orchestra è sempre nuova ogni anno, quindi la gente che suona nell'orchestra suona per un anno solo, quindi porteremo un'orchestra riversa l'anno prossimo. Ma è un piacere soprattutto per Simon, che conosce bene Anghiari, anche cittadino onorario, di poter portare la gente dell'orchestra a farli conoscere questo bellissimo posto, con tutta questa bellissima musica. Entusiasmante è stata, veramente una cosa, questi ragazzi si diceva prima con Miriam, sono quest'anno veramente di una classe superiore, quindi penso che il pubblico è rimasto tutto entusiasta, il tempo non ci ha premiato però. La gente però non è mancata in nessuna delle serate. Mai assolutamente, si calcola che abbiamo fatto una ventina, 25 anche concerti, sempre sulle 300 persone e poi questa sera è il pienone proprio. Possiamo dire che è una delle edizioni più riuscite? Ma direi proprio di sì, è la più faticosa perché guarda, questo maltempo non ci ha proprio aiutato, però i ragazzi sono stati bravissimi. Impegno quindi ripagato in pieno? Ma direi di sì, guarda, noi siamo contentissimi. L'abbiamo visto in quest'ultima sera con applausi scroscianti. Sì perché Simon Over quest'anno ha portato davvero degli artisti famosi a livello internazionale e quindi il cartellone degli eventi era di incredibile livello. Anghiari, musica, qualità e non solo? Musica, qualità e non solo, ora inizieremo con tovagli a quadri fra pochi giorni, abbiamo concluso con successo il Tibere, quindi siamo contenti e proseguiamo così. Musica, qualità e non solo, ora inizieremo con